andiamo ad iniziare la nostra soletta con 10 catenelle 9 e 10 più una che andrà a sostituire la nostra prima maglia di lavorazione andiamo a lavorare adesso sulla seconda catenella a partire dall'uncinetto un punto basso quattro punti bassi nelle quattro catenelle successive due tre e quattro cinque punti alti nelle cinque catenelle successive uno due tre quattro e cinque e cinque e siamo arrivati all'ultima catenella continuiamo la nostra lavorazione lavorando altri otto punti alti sempre nell'ultima catenella della riga che è anche la decima catenella quindi 1 un attimo che si è un attimino allentata ripetiamo uno due tre quattro cinque sei sette e otto e otto e otto e otto e ci ritroviamo dall'altro lato della riga continuiamo lavorando quattro punti alti sulle quattro sulle quattro catenelle successive in corrispondenza dei quattro punti alti che abbiamo dall'altro lato della riga uno due tre e quattro e quattro andiamo a lavorare adesso cinque punti bassi in corrispondenza dei cinque punti bassi che abbiamo dall'altro lato della riga uno due tre quattro e cinque e siamo arrivati alla fine della riga qui abbiamo la nostra catenella iniziale che sostituiva la prima maglia bassa e in questa catenella andiamo a lavorare due maglie basse entro con l'uncinetto e lavoro due punti bassi uno e due e termino il giro chiudendolo sulla prima maglia alta con un punto bassissimo in questo modo e abbiamo terminato il primo giro nel secondo giro il primo punto lo sostituiamo con due catenelle una e due e andiamo a lavorare cinque punti alti sui cinque punti bassi sottostante uno due tre andiamo ad avviare il secondo giro con due catenelle e dieci punti alti sui dieci punti successivi uno due tre quattro cinque sei sette tre e dieci quattro sulle sette maglie successive andiamo a lavorare due punti alti in totale avremo quattordici punti sulle sette maglie d'angolo uno due tre quattro cinque e sei sette otto uno troppo tre e che tipo uno due tre calcio uno uno cazzo due tre quattordici e abbiamo lavorato tutte le maglie d'angolo e siamo dall'altra parte della riga e continuiamo lavorando 10 punti alti sui 10 punti successivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Nelle 3 maglie basse d'angolo andiamo a lavorare 2 punti alti per ciascun punto, quindi avremo dall'altro lato della scarpina, questa è la punta e questo è il tacco, dalla parte del tacco avremo 6 maglie d'angolo. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. E chiudiamo il nostro giro con un punto bassissimo sulla maglia d'inizio, in questo modo. E abbiamo terminato anche il secondo giro. Nel terzo giro andremo a lavorare con 2 catenelle per il primo punto d'inizio e 10 punti alti sui 10 punti successivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Siamo arrivati alle maglie d'angolo che nel secondo giro sono 14 e nel terzo giro per ogni maglia d'angolo andremo a lavorare lo stesso 2 punti in ciascun punto sottostante per l'ultimo aumento. Quindi alla fine del terzo giro avremo 28 maglie d'angolo per la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. 18, 19, 20, 21, 29, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 e abbiamo effettuato l'ultimo aumento per la punta della scuola terminiamo il giro lavorando 10 punti alti sui dieci punti successivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 e siamo arrivate alle maglie d'angolo del tacco che sono 6 nel secondo giro nel terzo giro andremo a lavorare lo stesso due punti alti su ciascun punto d'angolo e alla fine del terzo giro avremo 12 punti d'angolo al tallone della soletta quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e chiudiamo il nostro giro sempre con un punto bassissimo sulla maglia d'inizio la soletta è terminata ecco qui ecco qui